Non posso nascondere che è stato emozionante per me mettere piede in questo stadio, è stato emozionante vedere questo bagno di folla, anche se era un bagno bianco rosso, io adesso rappresento altri colori, quindi un bagno di folla che c'era ostile, in senso sportivo naturalmente, però devo dire che è emozionante, però ci tenevo comunque a fare un dispetto, sempre in senso sportivo al Perugia, perché era la nostra partita di soldi, ci tenevamo a far bene, ci tenevamo soprattutto a far risultato, sapevamo che era una partita molto difficile, perché il Perugia è una grande squadra, ha un grande pubblico, gioca in un grande stadio e quindi evidentemente sapevamo di poter correre il rischio di perderla. Secondo me la prestazione l'abbiamo fatta, abbiamo provato a fare la nostra partita, abbiamo fatto un buon pressing nella metà campo del Perugia, spesso, possiamo far meglio sicuramente in fase di possesso palla, soprattutto in fase di impostazione sappiamo far meglio, però abbiamo avuto delle reazioni importanti anche dopo i gol subiti, la squadra è sempre stata viva, è sempre stata in partita, ha avuto qualche buona situazione, non ne abbiamo concesse tantissime al Perugia ed è un merito perché il Perugia è un attacco importante, però abbiamo commesso delle gravissime ingenuità, gravissime ingenuità che hanno determinato il risultato, soprattutto quella del primo tempo perché non puoi prendere il gol a due minuti dal riposo, quello è stato accondizionato un po' anche il nostro secondo tempo, non puoi perdere una palla così sanguinosa in uscita e soprattutto non si possono prendere gol su palla inattiva e anche su seconda palla in seguito a una palla inattiva, sono situazioni abbastanza leggibili su cui noi abbiamo fatto male, mi assumo la mia responsabilità e dovremo crescere velocemente perché poi queste partite spesso si risolvono in questo modo, quindi questo è il mio rammarico per la partita perché ripeto sono soddisfatto della mentalità della prestazione della squadra ma chiaramente abbiamo fatto cose abbastanza gravi che hanno determinato i risultati. Ma che rinvianti per le assenze? Sì le assenze erano tante ma io non guardo mai a chi non c'è, noi avevamo comunque 20 giocatori in organico, avevamo 11 ottimi giocatori in campo, avevamo 8 ricambi in panchina all'altezza e quindi non guardo mai a quello che può essere e quello che non può essere. La partita l'avevamo preparata, l'abbiamo giocata con determinazione, con impegno e dovevamo fare qualcosa di meglio su determinate situazioni perché sappiamo che in questa categoria non ti perdonano come in effetti è successo. Un pochino forse più pericoloso il Como con l'ingresso di Rigenardi? Beh sicuramente sì, sicuramente sì perché è chiaro che è una punta strutturata che ha come dire anche un po' semplificato la nostra manovra nel senso che magari si cercava un pochino di più la profondità, la palla addosso mentre nel primo tempo dovevamo lavorarla che è un po' la nostra caratteristica ma dovevamo lavorare l'azione, portare diversi giocatori fuori, passare attraverso le noci che poi trova la palla di prima o l'imbucata, quindi un'azione sicuramente più elaborata mentre nel secondo tempo con l'avvento di Gerardi è un po' più semplificata, ma questo lo sappiamo, abbiamo voluto questa varietà di attaccanti proprio per avere soluzioni diverse in base alle gare e in base all'avversario che andiamo a affrontare. Viste agli esordini nuovi, il suo vicio che ha toccato Iacchimoschi, ovviamente Bagua e Sparco, la morte che si attende? Allora partiamo da Iacchimoschi, Iacchimoschi ha fatto un allenamento e mezzo con la squadra di fatto e quindi non posso che essere soddisfatto della sua prestazione perché ha garantito comunque spinta, corsa sulla fascia, anche fisicità, è chiaro che non potrà mai essere giudicabile sotto l'aspetto della condizione oggi e neanche sotto l'aspetto tattico perché evidentemente, ripeto, abbiamo fatto due robine A e B e ci siamo fermati lì, sbaffo entrato ha dato vivacità, anche lui però si deve integrare perché anche lui ha fatto due allenamenti con la squadra e quindi evidentemente certe giocate le può ottimizzare, però ha dato vivacità, il suo ingresso ha dato subito vivacità in mezzo al campo e Bagua ha combattuto contro una linea difensiva forte, comunque come quella del Perugia, il primo tempo forse è un pochino isolato e il secondo tempo con vicino Gerardi che ha più fisicità, certamente ha trovato anche più giocate, più spazi, anche perché non dimentichiamo che Bagua sa fare sia la prima che la seconda punta, ma direi che sa fare soprattutto bene la seconda punta.